Buonasera, ben arrivati. Siamo qui stasera con il professor Carrai, che per me è un grande onore avere. Un professore così illustre, così come è stata anche la lezione che abbiamo fatto in passato con il professor Bologna. Io ci tengo molto a far sì che la scuola normale e i concerti della normale abbiano un'interazione sempre maggiore, perché naturalmente, sempre in un caso come quello del concerto di domani, dove ci sarà lo Stabat Mater di Alessandro Scarlatti, sapere qualche cosa su questo testo, su questo straordinario testo, può essere molto utile. E naturalmente chi può farlo meglio, le persone che hanno studiato questi testi li conoscono come pochi. Senz'altro ne possono parlare con molta più cognizione di causa di quanto posso fare io. Adesso lasciamo passare questa sirena, naturalmente. Perché mentre venivo qua, ho dato un'occhiata così al volo, a quanti musicisti hanno il Stabat Mater. Ed è una cosa veramente impressionante, perché è un testo così lontano, no? XIII secolo. E' un testo che ha attraversato e continua a attraversare tutte le fasi dell'umanità, nonostante tutti i cambiamenti che proprio negli esseri umani ci sono stati. Perché è un testo che, vuol dire, se vediamo il Medioevo, vediamo naturalmente Ixosken, Palestrina, Orlando di Lasso. E naturalmente lì ci poteva anche stare che un testo del XIII secolo avesse una rispondenza nella sensibilità dei compositori del Medioevo. Però poi andiamo avanti, arriviamo al barocco. Un esempio lo sentiamo domani sera. Ma poi c'è Pergolesi, c'è Vivaldi, ce ne sono una quantità incredibile. Stefani, Caldara e così via. E già la sensibilità dell'uomo barocco non è quella dell'uomo del XIII secolo. Menché meno quella del classicismo. Eppure questo testo parla con una forza drammatica straordinaria anche a musicisti come Haydn, a Boccherini, Salieri, Paesiello. E uno può dire, vabbè, però quando si arriva al romanticismo veramente punti in comune con il XIII secolo non ce n'è più. Cioè i tormenti dell'uomo romantico, il modo di pensare, la visione del mondo è così lontana che questo testo naturalmente non può avere la stessa valenza. Invece ce l'ha perché Liszt, Schubert, Merkel, Vorjak e poi anche il mondo del melodrama, l'opera italiana. Meravigliosi stabatmate di Rossini, di Verdi. E più si arriva anche al XX secolo. Poulenc, Kodai, Szybanovski e nel dopoguerra ancora. Pendereschi, Arvo Pert e fino a poco fa, un mese, un mese e mezzo fa in Vaticano c'è stata la prima di questo meraviglioso stabatmate scritto da James Macmillan, che è un compositore nato nel 59 ed è uno dei più grandi compositori viventi. E stavo dicendo al professore che proprio credo questa settimana o in questo mese ha debuttato uno stabatmate scritto da Nicola Piovani che è adesso ancora in giro. Cioè è un testo che quindi passa attraverso tutte le fasi dell'uomo cioè l'uomo del XIII secolo a quello di oggi con intatta forza drammaturgica grazie a queste immagini così forti, così evocative così... individentemente dal fatto che sono uomini che hanno vissuto esperienze diverse che avevano una visione del mondo anche antitetica fra di loro. Allora io le chiedo, professore, come è possibile? Questo poi è uno dei pochissimi testi che ha continuato nei secoli a rimanere, fra l'altro senza modifiche cioè viene sempre musicato nello stesso modo non è che è stato cambiato come può essere capitato per esempio le messe sono diverse le messe di Mozart sono diverse da quelle di Monteverdi a volte sono state cambiate i versi a volte sono state cambiate le sequenze il Requiem di Verdi non è lo stesso Requiem di Brahms c'è una visione diversa anche dal punto di vista teologico e invece lo Star Mad Matter no cioè rimane con una specie di monolite potentissimo allora secondo lei a cosa è dovuto cosa ha di particolare questo testo rispetto ad altri anche dello stesso periodo? si sente sì dunque ma intanto prima di rispondere alla domanda insidiosa del maestro Boccadoro no voglio dire che sono molto lieto davvero di dare un contributo sia pure minimo alla stagione dei concerti della normale e che credo anch'io insomma che questa interazione tra la musica e le attività della scuola sia molto importante e molto bella e spero anche che insomma possa intensificarsi questa sinergia in futuro dunque che cosa ha di particolare lo Star Mad Matter? ma io ho una mia idea che è legata al diciamo allo spirito elegiaco ecco di questa composizione al senso del dolore del dolore che trasmette e poi credo anche un'altra cosa che sia un testo scritto per la musica questo ho fatto diciamo qualche ricerchina nei giorni scorsi e c'è uno studio molto recente di un musicologo appunto Cesarino Ruini dell'Università di Bologna che ha scoperto nel 2010 ma diciamo ne ha parlato poi negli studi gregoriani del 2013 ha scoperto un manoscritto del XIII secolo della fine del XIII secolo con notazione musicale quindi probabilmente questa è solo un'ipotesi ma probabilmente nasce già come testo per musica testo liturgico ed è un'ipotesi tutto sommato abbastanza plausibile dunque lo Stabat Mater è uno degli inni più celebri del medioevo latino con il diesire con il pangelingua e mette in scena in effetti il dolore o meglio due dolori diciamo perché c'è una prima parte che dà voce al dolore della Madonna per la passione di Gesù sulla croce la seconda parte poi è lo leggeremo se senza se perché credo che sia molto opportuno insomma leggere naturalmente nella tradizione nella traduzione italiana dicevo la seconda parte è insomma una preghiera ecco una invocazione alla Madonna quindi dalla prima parte quasi descrittiva del dolore di Maria si passa ad una seconda parte in cui si invoca Maria perché faccia sì che l'orante possa condividere il dolore del Cristo che il dolore del Cristo possa essere tutt'uno con l'adesione diciamo nello spirito nel cuore alla passione da parte del fedele quindi l'elemento regiaco è molto forte molto forte è un testo che vuole generare pietà compassione naturalmente del Cristo sulla croce che sta morendo ma più ancora vero della madre quindi diciamo è un po' l'equivalente di quello che è nella scultura la pietà che è diciamo un momento successivo però sempre il dolore della madre che ha tra le braccia il figlio defunto quando è stato scritto lo Stabat Mater i due più antichi manoscritti che sono stati trovati sono appunto relativi alla fine del XIII secolo uno quello recentemente scoperto connotazione musicale un altro solo con il testo poetico però siamo alla fine del 200 dunque è anteriore anteriore alla fine del 200 questo testo e forse di poco il forse di poco dipende anche dal fatto che è attribuito tradizionalmente a Jacopone d'Artodi questa attribuzione non è sicura non è sicura perché per tanti motivi intanto è vero che molti manoscritti lo attribuiscono a Jacopone però non abbiamo un'edizione critica non abbiamo uno stemma codicum come dicono i filologi di questa di questa tradizione manoscritta e quindi è difficile dare un peso valutare insomma in maniera in maniera precisa la credibilità di questa attribuzione e in contrario militano alcuni fatti che certo Jacopone è il poeta religioso più famoso di quel momento fra fine 200 e inizi 300 e dunque poteva essere facile attribuire un test anonimo al diciamo poeta religioso per antonomasia poi c'è il fatto che non risulta che Jacopone abbia mai scritto poesia latina solo laude in volgare e poi altri altri testi ma sempre in volgare poi c'è anche un'osservazione di appunto questo musicologo Cesarino Ruini che in chiusa del suo studio diceva che entrambi i manoscritti più antichi appunto fine del 200 sono di ambito bolognese e sembrano far intravedere rapporti di conventi confraternite bolognesi con il nord Italia quindi diciamo tutto porterebbe lontano da quell'Italia mediana di Jacopone cosa che però insomma non è non è dirimente ecco quindi è un'interpretazione è un'attribuzione plausibile assolutamente plausibile perché poi non c'è un'attribuzione diciamo concorrenziale però insomma è un po' controversa non si può essere sicuri che il testo sia di Jacopone ecco ho dimenticato di dire che naturalmente nel corpus delle laude jacoponiche c'è una lauda che per l'affinità del tema poteva anche indurre vero qualcuno un copista o così anche un lettore un po' diciamo tendenzioso ad attribuire un testo anonimo di questa fatta a Jacopone cioè Donna del Paradiso no la lauda certamente più conosciuta di Jacopone mette in scena proprio lo stesso tema quella è una lauda drammatica quindi dialogata tra più voci tra più personaggi ma il tema è quello il dolore di Maria però per la passione che il figlio subisce ma comunque certamente l'attribuzione a Jacopone è un dato molto interessante però non è l'aspetto più interessante di questo testo l'aspetto più interessante direi è la sua struttura formale la metrica intanto perché si tratta di un testo di poesia latina sì ma non secondo la metrica la prosodia quantitativa del latino classico ha anzi una metrica accentuativa proprio come le prime poesie in volgare italiano quindi le poesie dello stesso periodo dei poeti toscani ma anche dei poeti umbri Jacopone stesso e quindi è formato da dieci strofe ognuna di sei versi e ognuno e ognuna di queste strofe di sei versi è costituita al suo interno da due coppie di ottonari a rima basciata ogni coppia poi chiusa diciamo a formare quindi un terzetto diversi da un scenario sdrucciolo stabat mater dolorosa iusta crucem lacrimosa dun pendebat filius due ottonari è un scenario ma sdrucciolo filius non filius e poi cuius animam gementem contristantem e dolentem per transivit gladius altri due ottonari è un scenario sdrucciolo con la particolarità che le coppie di ottonari sono a rima basciata dolorosa lacrimosa gementem dolentem i due senari sdruccioli che si infiltrano in mezzo alla fine diciamo in fondo al distico sono legati da una rima imperfetta filius gladius non è una rima però diciamo è una rima imperfetta per assonanza perché comunque il finale della parola filius gladius è uguale vi leggo anche la seconda strofa oquam trissi set afflicta fuitilla benedicta ecco i due ottonari mater unigeniti il scenario sdrucciolo que merebat e dolebat e tremebat cum videbat nati penasi incliti quindi il dolore dell'importante figlio quindi vedete la metrica non è quella del latino ma è quella della lingua materna della lingua moderna e questo già vero tra l'altro torna molto bene anche con una destinazione canora naturalmente ma un altro aspetto molto interessante del testo è la sua struttura diciamo tematica ho già detto che mette davanti al lettore o all'ascoltatore due dolori giustapposti quello della madre e quello del figlio che il fedele vorrebbe quasi introiettare vorrebbe quasi fare proprio questo diciamo divide il testo in due parti non del tutto simmetriche cioè le prime quattro strofe e le ultime sei leggo adesso la traduzione italiana in questo caso è la traduzione di Gianna Gardenal una studiosa di poesia latina medievale e umanistica quindi le prime quattro strofe dicono con nel cuore una terribile pena stava la madre accanto alla croce piangeva mentre il figlio era lassù una spada attraversò la sua anima gemente la sua anima affranta e dolente come era triste e afflitta la benedetta madre dell'unigenito quanto si rattristava e si doleva tremava anche nel vedere le pene del grande figlio chi mai non piangerebbe nel vedere la madre di Cristo vivere tale supplizio chi mai senza rattristarsi potrebbe contemplare la pia madre addolorarsi con il figlio vide Gesù tormentato sottoposto alla flagellazione a causa dei peccati del suo popolo vide il dolce nato che moriva nella desolazione quando emise l'anima ecco questa è la parte sul dolore della madonna che però naturalmente riflette anche il dolore ingiustamente patito dal figlio dalla quinta strofa fino all'ultima alla decima non cambia il tono perché rimane questo tono dicevo elegiaco che vuole generare compassione in chi ascolta in chi legge ma cambia diciamo il il movente diciamo così insomma di del testo perché appunto si passa ad una vera e propria preghiera ad una vera e propria invocazione oh madre santa fa questo imprimi con forza nel mio cuore le piaghe del crocefisso dividi con me le pene del tuo figlio ferito che vuole morire per me fa che io pianga sinceramente con te mi rattristi il crocefisso finché io vivrò desidero stare con te presso la croce a te sinceramente nel pianto desidero unirmi o vergine illustre tra le vergini non essere dura con me fa che pianga con te fa che porti me la morte di cristo che partecipi della passione e veneri le sue piaghe fa che le sue piaghe mi feriscano che sia inebriato dalla croce per amore del figlio commosso infiammato da te vergine io sia difeso nel giorno del giudizio fa che la croce mi protegga che la morte di cristo mi difenda che la grazia mi riscaldi quando il corpo perirà fa che sia concessa all'anima la gloria del paradiso quindi la preghiera è una preghiera volta a partecipare della pena del cristo a provare il suo stesso dolore in modo da acquistarsi naturalmente i meriti che poi procurino la salvezza nel giorno del giudizio che procurino insomma il paradiso ora come si vede insomma questo testo appunto lacrimevole non è solo la madre lacrimosa ma quasi il lettore vero deve rispecchiarsi nelle lacrime di Maria e anche lui piangere per questo duplice dolore che si dispiega davanti ai suoi occhi ma si tratta anche di un testo dalla spiritualità semplice veramente una preghiera una preghiera anche umile e si capisce allora che con tutte le altre sequenze troppie sequenze vennero banditi dal concilio di Trento quindi il concilio di Trento rimosse dalla liturgia anche anche lo Stabat Mater con tante altre sequenze medievali lo Stabat Mater fu reintrodotto da Benedetto XIII soltanto ai primi del Settecento nella liturgia e in particolare fu adibito al al canto durante la via Crucis allora questo naturalmente spiega perché nella lunga vero teoria di musicisti che si sono ispirati a questo testo che continua appunto ad affascinare forse proprio per la sua semplicità per la sua anche in qualche misura spontaneità nella preghiera questo dicevo questa assenza dalla liturgia per un secolo e mezzo spiega proprio il salto il salto che in questa serie di musicisti c'è tra l'età di Orlando di Lasso e di Palestrina anche di Josquin certo e il testo che ascolterete scusate lo Stavat che ascolterete domani sera musicato da Alessandro Scarlatti il trionfo del barocco siamo proprio dalla parte opposta rispetto a mezzo no ma però è anche reintrodotta già nella liturgia e quindi un compositore è legittimato insomma non è più diciamo tra virgolette all'indice il componimento ecco io mi chiedo professore se queste immagini che sono come abbiamo visto delle immagini però così forti direi quasi di una teatralità quasi sfacciata addirittura mettere le piaghe nel proprio corpo sono delle immagini vivissime di grandissima immediatezza ecco io non sono naturalmente un esperto di poesia medievale io mi chiedo se queste immagini così forti appunto così teatrali siano un'eccezione nella poesia di quegli anni o era normale per farsi capire usare delle immagini così forti così esplicite così direte perché mi sembra che abbiamo qualcosa di più no ma questo era normale poi qui c'è Corrado Bologna che naturalmente potrebbe raccontarci molte cose su questo sì era normale perché era un modo per diciamo da un lato in generale nel cristiano un senso di colpa per la morte di Cristo dall'altro però anche avvicinarlo appunto al dolore di Cristo quindi questo sangue queste piaghe c'era molto il gusto e per la verità si è si è così ha continuato e questo gusto anche in epoca abbastanza recente io insomma in anni molto lontani ho fatto il chierichetto mi ricordo questo senso proprio del dolore del Cristo per cui insomma il Cristo che si è immolato per noi e quindi noi dobbiamo in qualche modo soffrire quello che ha sofferto lui però mi chiedo in molti testi liturgici queste immagini ad esempio penso che a quelli di Bach sono molto più sfumate sono molto più stiamo più sul non detto si dà quasi per scontato che il devoto sappia che Cristo è morto in quel modo che aveva quelle piene invece qui c'è una cosa quasi cinematografica ci sono dei primi piani non so come dire di questa atrocità che mi chiedo a che tipo di pubblico quindi forse io posso capire che ad esempio quando si facevano andavano in giro i clerici vagantes o ci fossero delle cose nelle piazze per gli analfabeti si ricorresse a delle immagini anche violente o desplicite però naturalmente non credo che questo testo sia nato per essere diciamo raccontato a quel tipo di pubblico probabilmente era destinato a un pubblico liturgico quindi mi chiedo per questo mi sembra un po' strano un po' bizzare è vero sono immagini molto forti sono immagini che si ritrovano però ad esempio proprio nel repertorio delle laude certo qui torna in ballo Jacopone ma forse diciamo non solo Jacopone nel senso che sono immagini molto forti appunto di dolore di sangue di piaghe che certo fanno pensare è vero a un pubblico anche molto semplice sì questo senz'altro però forse la liturgia diciamo non era fatta solo per il popolo eletto poi in chiesa andavano un po' tutti quindi è una mia curiosità perché credo che sia proprio questo carattere così incandescente che continua a ispirare musicisti anche di epoche un po' di pensare totalmente anche antitetici tra loro domani allora noi ne ascolteremo un esempio di tipo barocco quindi sentirete poi fra l'altro la musica di Durgi Scarlatti è bellissima ed è pochissimo eseguita e pochissimo ascoltata anche per la difficoltà esecutiva che richiede e insieme a questo Stabat Mater c'è una meravigliosa cantata di Bach Estis Genug che è stata scritta anche questa in occasione della celebrazione della Madonna quindi sono stati accomunate assieme e si vedrà proprio domani la differenza fra questi due approcci non solo quello diciamo più luterano rispetto a quello di Scarlatti ma anche musicalmente saranno mondi completamente diversi però entrambi danno un'idea e secondo me l'idea di questo Stabat Mater che è stato scelto fra tanti che avremmo potuto fare il solito per Golesi che è anche un po' inflazionato invece è stato bello poter scegliere qualcosa che non è nel solito repertorio ma è di una potenza drammatica assoluta insomma e io credo che sia stato importante sapere capire appunto da dove viene questo testo e come mai continua a affascinare ancora oggi musicisti di tutti i tipi insomma sì certamente è una spiritualità molto semplice ma anche molto forte no questo credo che affascini questo dolore che è un dolore non stilizzato non letterario ma un dolore potente che si percepisce insomma che l'ascoltatore percepisce in maniera molto evidente quindi credo che questo sia così l'elemento di fascino ecco anche nella modernità insomma assolutamente quindi noi vi aspettiamo domani sera alla chiesa di Santa Caterina con l'ascolto di questa meravigliosa pagina di Scarlatti io ringrazio tantissimo il professore che ci ha introdotto un po' e ci ha dato almeno così un punto di partenza sì prego qualche anticipazione sulle caratteristiche musicali sulla musica sull'interpretazione di Scarlatti di questo testo rispetto all'altro beh è totalmente naturalmente molto diverso anche da quello dell'altro Scarlatti lo stile di Scarlatti e Alessandro è uno stile che appunto si sente molto poco per il tutto perché lui scriveva per degli esecutori di capacità eccezionali che per molto tempo addirittura non si è potuta fare una buona parte della sua musica liturgica perché non c'erano cantanti in grado di farla perché ha un tipo di vocalità e un tipo di virtuosismo incredibile cioè è molto difficile molto faticoso e che poi è molto barocco in senso è molto ornato c'è un sacco di fioritura nelle parti vocali è diviso in tanti movimenti brevi e se non mi ricordo esattamente se sono 16 o 19 sono più stanza di quelle dello Stabat Mater dove ho visto che sono 10 qui sono frammentati e lo stile naturalmente è quello del periodo Napoli lui l'ha scritto quando era a Napoli ed è il stile della musica napoletana di quel periodo appunto è uno stile molto lussureggiante naturalmente barocco nel senso assoluto della parola è uno stile molto più cromatico ad esempio lui è degli vari scarlatti i due scarlatti è il meno conosciuto perché è anche quello più intellettuale è anche quello meno diretto se noi pensiamo a Domenico Scarlatti che è invece un musicista molto spontaneo le sue sonate per pianoforte è un musicista molto diretto cioè in realtà è più simile lui al testo dello Stabat Mater mentre invece Alessandro è un musicista molto più cerebrale molto più complesso armonicamente molto più appunto articolato a livello di fioriture vocali meno meno immediato nelle sue melodie che pure sono sempre bellissime però sono delle melodie più appunto più intellettuali meno meno spontanee e quindi anche fra i musicisti barocchi italiani Alessandro Scarlatti è comunque sempre stato un musicista che piaceva ai musicisti più che al grande pubblico e per molto tempo la sua produzione è stata virtualmente ignorata e tuttora ancora ci sono un sacco di pagine che stanno ancora al Conservatorio di San Pietro Maiella che non sono state scoperte è uno stile molto non so come definirlo molto operistico in quel senso molto teatrale cioè già un testo questo abbiamo visto molto forte molto immediato nella visione di che sentirete domani queste caratteristiche di dramma sono accentuate ancora di più nella scrittura vocale proprio perché è una scrittura a volte estrema nel virtuosismo che richiede agli esecutori e questo in più se a questo sommiamo il fatto che la musica è piuttosto complessa dal punto di vista armonico perché lui non è cromatico naturalmente come Gesualdo da Venosa eccetera però è un musicista che si muove sempre su una perenne instabilità armonica le tonalità e Alessandro Scarlatti sono sempre di passaggio siamo in un posto però poi la tensione è tale che le tonalità spingono per andare da un posto all'altro proprio perché è un musicista che ha fortissimo il senso del teatro lui ha lavorato molto appunto nel teatro e quindi anche questa che è una composizione che non era destinata probabilmente all'uso teatrale ma penso all'uso liturgico è comunque come se lei sente lo Stabat Mater di Rossini ci sono delle parti che potrebbero essere inserite tranquillamente nelle sue opere infatti quando lui lo scrisse gli appassionati di musica sacra lo giudicarono un brano sconveniente perché c'era il tenore che faceva gli acuti come se le cantassero una romanza d'opera perché lo stile di Rossini era quello cioè lui era tutto teatro e quindi tutto quello che toccava diventava teatro ecco a suo modo nel suo tempo Alessandro Scalati faceva lo stesso se lei ascolta le aree delle sue opere non di carattere religioso e poi ascolta questo Stabat Mater ci ritrova lo stesso clima cioè lui non cambiava stile non aveva uno stile più sobrio diciamo così come sarebbe stato richiesto in genere come si richiedeva ai compositori quando scrivevano musica sacra rispetto a quando scrivevano della musica diciamo non destinata al culto a lui questo non interessava lui aveva questa questa ispirazione incandescente che poi veniva ancora più accesa da un testo come questo e quindi è una composizione di una grandissima forza e di una grandissima drammaticità quindi ha gesti molto forti ha figure molto forti sia a livello proprio delle figure musicali che usa sia nel tipo di vocalità che è richiesta ai solisti è una musica estremamente esplicita da questo punto di vista quindi è un po' un'eccezione perché ad esempio se pensiamo invece a quello di Pergolesi Pergolesi è molto più dimesso da questo punto di vista è molto lirico è molto interiore questa barmata di Pergolesi è una musica che viene tutta dall'interno con le due voci femminili che hanno una purezza e una trasparenza di scrittura e una semplicità soprattutto assoluta cioè in Pergolesi non ci sono i fuochi d'artificio vocale che si trovano in quello di Scarlatti invece qui siamo proprio da tutt'altra parte ed è per questo che non è facile riproporlo ma per fortuna avendo un gruppo fantastico come gli user musici e i cantanti anche i solisti bravissimi che abbiamo domani è possibile finalmente rendere giustizia a questa pagina il primo Alessandro Scarlatti che torna a musicare lo Stabat Mater dopo questa specie di interdetto seguito al concilio di Trento? questo non lo so se come date è il primo senz'altro è uno dei più celebre che poi ha avuto una vita particolare perché Alessandro Scarlatti era molto celebre quando era in vita cioè era un po' il re dei teatri barocchi dell'epoca dopo e invece a causa appunto del fatto che la sua musica era stata giudicata un po' ostica e poi lo era realmente da eseguire ha avuto un lungo periodo di oblio però senz'altro in quell'epoca era il più celebre quindi può darsi pure che se non sia stato il primo è senz'altro comunque quello che aveva riportato in auge in auge l'idea di mettere musica a questo testo anche se vediamo che poi in realtà è una costante cioè non è mai andato via questo testo è sempre rimasto ma quello di Pergolesi comunque successivo eh sì è di poco ma lì fra l'altro Pergolesi è totalmente diverso pur essendo entrambi appartenendo entrambi alla stessa area stilistica però sembra di sentire proprio il giorno e la notte è proprio è difficile immaginare due star-of-the-matter più diversi di quello di Pergolesi è proprio una semplicità oggi la potremmo chiamare minimalista cioè c'è veramente c'è solo il minimo indispensabile e non di più nella partitura anche a livello strumentale è proprio di una semplicità assoluta ed è il miracolo di quella partitura in mano a chiunque altro sarebbe diventata una cosa di una povertà francescana e invece con un genio assoluto come la Pergolesi diventa un'opera meravigliosa no domani invece si sentirà una cosa molto molto diversa infatti quello di Pergolesi ma questa drammatizzazione come è fatta cioè grazie ci sono cioè personaggi la Madonna e poi ci sono ci sono i personaggi e poi c'è anche la parte strumentale di una fortissima drammaticità cioè l'orchestra diventa personaggio l'orchestra ovviamente è un'orchestra piccola è una piccola assambla però anche quello non è un sostegno alle voci non è non sono arie con degli accompagnamenti è molto interessante anche perché appunto è una cosa tutta organica anche se è divisa in tante parti a volte molti di questi brani avevano veniva fuori una specie di serie di arie staccate poi riunite sotto un umbrello di un titolo invece qui è una composizione estremamente organica e quindi anche la parte strumentale quindi le armonie e come le voci si rapportano all'armonia è un puttuno ed è tutto estremamente drammatico e lui è un musicista che appunto come Rossini fa teatro anche quando non lo fa quindi è teatro in chiesa insomma credo che sarà se non lo conoscete vale veramente la pena di venirlo a sentire nonostante siamo in chiesa e quindi farà freddo perché come sappiamo le chiese non sono mai riscaldate quindi stiamo un po' meglio rispetto ai cavalieri dove eravamo sotto zero è meglio perché ci sono delle cose per riscaldare un po' però vale comunque la pena di affrontare forse un clima un po' più arduo per sentire questa pagina è una cantata molto bella che è una cantata che è rimasta celebre non solo per la bellezza della sua musica ma per essere stata citata da Alban Berg nel suo concerto per il violino che è stato scritto come sappiamo il concerto alla memoria di un angelo cioè in memoria della figlia di un amico di Berg che era morta allora quando secondo si arriva al culmine del concerto di Berg che è un pezzo di una drammaticità straordinaria e quando si arriva appunto che per Berg rappresenta il culmine del dolore lui cita questo corale estis genu che vuole dire appunto basta questo è abbastanza perché il protagonista della cantata di Bach dice appunto chiede al signore di morire di essersi libero perché ha sofferto il dolore è così tanto dice basta ne ho avuto abbastanza ho visto anche abbastanza cose lasciatemi andare e quindi lui in quel momento cita esattamente il corale estis genu nel suo concerto per il violino e appunto questa è una cantata che era stata scritta per una ricorrenza che riguardava anche questa la Madonna quindi l'accostamento con lo Stavart Matter ci sta anche se musicalmente appunto siamo da tutt'altra parte però anche questa è un lavoro che ha in comune con Scarlatti di essere estremamente tragica è una delle grandi cantate tragiche di Bach come Actus Tragicus e altri cioè non le cantate di Bach sappiamo che sono diversissime ce ne sono anche quelle di carattere sacro ce ne sono di più lievi di più allegre diciamo così e altre invece estremamente drammatiche e questa è una di quelle veramente forti di carattere molto molto drammatico molto impegnativo e appunto nel novecento è rimasta famosa per essere così per aver fatto appiglio a Berg per poter terminare con un'idea appunto ultraterrina il suo concerto per violino non è è molto famosa diciamo fra i musicisti naturalmente a causa di questa citazione berghiana non so se sia poi una contata molto famosa con il grande pubblico ma c'è da dire che in Italia non c'è come c'è in Germania la tradizione di fare le cantate di Bach tutte le domeniche come all'Ipsia o in altre città e quindi in realtà non sono poi così diffuse da noi le cantate di Bach cioè un sacco di gente probabilmente le conosce dai dischi occasione di sentirle in concerto tranne quando si fa l'oratore di Natale e poco altro non sono moneta corrente da noi le cantate di Bach invece se uno va appunto in Germania non solo sono eseguite tutte le settimane ma spesso chi va a sentirle conosce addirittura i corali io ho visto nella Thomas Kirk di Lipsia il pubblico cantare i corali che ci sono fra un'area e l'altra a memoria così come noi potremmo cantare delle canzoni popolari che conosciamo sono talmente famose questi inni che loro cantano che fanno parte insomma della routine familiare tutti quanti ho visto anche i bambini cantare questi corali insieme ai musicisti ma da noi non c'è questa tradizione quindi è è una cantata molto nota senz'altro per me e per chi conosce la musica non lo so se lo è per il grande pubblico comunque è un pezzo anche questo stupendo quindi vale è una coppiata vincente dal punto di vista della qualità musicale grazie siamo stati più brevi del solito ma non c'è e non vogliamo che togliere la sorpresa del concerto di domani quindi spero di vedervi tutti domani al concerto bruciata? bruciata? grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti